Ieri si è tenuto il vertice in prefettura, convocato dal prefetto Carmine Valente. Presenti i sindacati che rappresentano i dipendenti di Caltambiente, i vertici di Caltambiente, l'ISENGALA per lato CL1, l'amministrazione comunale di Caltanissetta. In pratica è il commissario regionale per l'emergenza rifiuti in Orrito. In pratica l'unica soluzione che è stata trovata, perché lo ricordiamo le somme sia del lato che del comune sono pignorate dalla ditta Catanzaro e si aspetta la decisione del giudice, l'unica soluzione che il commissario regionale ha potuto trovare è quella di darvi il 50% del mese di settembre che vi verrebbe accreditato lunedì e a fine novembre un 50% del mese di ottobre. Voi quindi avete deciso di continuare a scioperare nonostante l'appello del prefetto? Sì, il prefetto ci ha dato tutte queste possibilità, però abbiamo poi avuto una piccola assemblea fuori, abbiamo chiesto al prefetto 5 minuti per parlare con gli operai e abbiamo detto tutto quello che è successo all'interno, ma gli operai non ne vogliono sentire per niente, hanno detto vogliono il restante di settembre tutto ottobre che già è maturato. Anche perché è già finito novembre? Sì, è già finito novembre e poi c'è pure lo stipendio di novembre con la tredicesima che noi dovremmo percepire. Per farlo capire meglio alla gente, il 50% di settembre, comunque gli stipendi dei Neturbini sono degli stipendi modesti, avete tutti delle famiglie, cioè il 50% di settembre ha soldi quando vi verrebbe? Ma supergiunto 600-700 euro diciamo a persona. E con i messi appunto che avanzate, arretrati, debiti, mutui della casa da pagare, le banche, con questi 600 euro non potete fare nulla? No, questi 600 euro non si può fare nulla perché si paga solamente il necessario, luce e gas e la spesa che si deve andare a fare per tirare un po' di giorni a sopravvivere. Perché è diventato sopravvivere, non è più lavorare e fare qualcosa, sopravvivere per tutti. Un'altra domanda, il prefetto ha detto che giustamente per quanto riguarda il suo ruolo, la sua competenza, nel momento in cui scatta un'emergenza igienico-sanitaria deve comunque intervenire. La città dovrebbe essere ripulita, se non lo fate voi c'è il rischio che venite sostituiti o che venite anche precettati. Quindi voi siete consapevoli di questo rischio? Sì, a tutti gli operai, a tutti i quattro sindacati abbiamo delucidato tutto quello che può succedere. Non c'è la voglia, perché la voglia di lavorare c'è, però sono disperati, c'è un'esasperazione totale verso le persone, verso le famiglie. Ci sono persone a 50 anni che li vediamo piangere, piangere, per andarsi a comprare un litro di latte per i bambini che sono a casa. E dopo di questo non so che cosa dire. Anche perché alla fine avete lavorato o avete diritto allo stipendio? Sono soldi già maturati. È andata a finire che prima si lamentava il disoccupato, ora si lamenta l'occupato. L'occupato pur essendo che lavora, senza soldi, deve essere pure denunziato e così pure umiliato. Ieri in prefettura c'è anche chi ha detto non abbiamo più nemmeno i soldi per mettere la benzina alla macchina e andare a lavorare, come non abbiamo più soldi per pagare l'assicurazione. C'è una disperazione totale, non so le parole perché poi sono tutte a susseguire, sono disperazione totale. Anzi stamattina quando siamo arrivati in deposto e abbiamo fatto una piccola assemblea con gli operai per vedere se li convincevamo ad andare a lavorare, abbiamo avuto un'altra proposta dal dottore Giardina, forse avranno parlato con il prefetto, non lo so, con le istituzioni, che le emulienti di settembre, che significa il 50% che noi avanziamo, li potevano dare domani mattina se si andava a lavorare. I 300 euro che erano stati erogati per le persone che avevano più bisogno, che abbiamo tutti di bisogno, quelli poco poco in più di noi, non gli arrivava sullo stipendio di settembre, ma venivano trasendute sulla busta paga della tredicesima mensilità. E ci ha fatto pure un'altra proposta che i 60 operai che non avevano percepito questi 300 euro per dare aiuto agli altri colleghi, ce li dava con l'acconto di ottobre, che venivano levati pure sulla tredicesima. Questo dobbiamo dire grazie sia a Giardina e pure all'interlocutore, che saranno le istituzioni, l'eccellenza e qualche altro, però gli operai non hanno voluto sentire né conto né ragione. Vogliono settembre e ottobre, perché è da otto anni che si soffre sempre la stessa cosa per gli stipendi. Grazie.